Questo è Eusebio Beb Non so così sicuro in realtà Sento puzza di... Non lo so Sento puzza non di un grande campione Onestamente Naga da... Nei marda giornalità... Ma perché hanno rimesso il 78 o più? Vero? E pippo Vabbè intanto questa l'ho aperto che toccava le va Ma che si nascondino Si già stava a pensare Ascia grazie se è bello e ben tornato Lui sfigo waiting room Capite nascondino quei icon Ma mi ha dato quello che c'ho Mi ha dato Sanchez Baby che c'ho nel club Che ho comprato Ma magari mi da zitano Certo oh C'è un attimo una suspense Che brutta apri l'icon quest'anno Tu lo spara in faccia Te dirò De tutte quelle che c'è stanno mi ha dato quello che c'ho Te posso dire Manco male mi vendo il mio Io te invito Cassa Certo 3 e 60 3 e 50 Ah Vabbè ti mettilo a 3 e 75 Così Ci metti 6 anni No ma ci metto troppo Stai giocando come grande amico È stato avviato una funzione Ok ci siamo 3 e 6 che ci vediamo sul 22 Sul 23 Vabbè ci manca a fare Tanta è la prima Oh Oh guarda che fuori Guarda Olanda ATT Mamma mia Oh Vabbè Marco Van Basten Arda come sa Balla e sa ride Oh coglione Ho dato un petto Sta pippa De merda Ma 270 mila Affarone Che a fare questa sfida Vediamo qua che c'è stato È bello Icona base Facce gode Facce gode con sti Icona base dai Eccolo Francia TC Oh questo è buono E beh Deve sei lì Questo è buono Questo si è avuta a titolare Subito Boom Dentro Oh questo è buono Questo è forte Fracico Alele Del suo come vieni qua Che ben tornato Bello Grazie V7 Vediamo un po' Deve sei quanto sta Eh beh Sui 700 mil Beh questo è buono Questo Veramente buono Ma alla fine della fiera Ha sfida Mezzo milione 458 460 Sì Ah foto Uro Invece mo me manderà Mamannami Oh Uro Se sei uomo Dovevo apri Se sei uomo Dovevo apri Da me Oh Attenzione Brasile CoC Au Che è digna Cagà Bono Bello Grazie per le pizze Ma io te quel coglione Le van bastan Au cagà Ne è male Bello Se usa Vola 900 mila Per ora Quei più coglione Sono stato io Oh Questa 800 Ce sta Ma questo A me piace Inizio gioco Spiegni L'unica cosa è che Impia tanta la porta Però Apri la ghetta Devo dire Apri e via Io Sanno le mid Grazie René Anche tu Come sta Andando a Sticone No Airplus Ce l'ha Non lo so Che gli sta Fa Però Se la vuole apri Per me Può pure apri Niente Pronti Pronti Vabbè Schavi Guarda che Se posano E brutto Che cazzo è Ma che cazzo Se balla Lam baby Vorrei Trova pure Una mid Volendo Così Per la scienza Ma che c'è Scarpe Del clown Ma quanto So Lung Oddio È vero C'è 55 Le piede Ma il problema E caspita Costa 500 E tu sei succiato L'amma a 300 Però Boh Alla fine Questo Mediano È simpatico Io Trovo Sala baby Da paura Grazie Un potentissimo Sanchez Che già avevo Così vendo il mio Te dirò Ci posso Oh madre De Dio Eh Questa Per ora È il peggiore Mamma mia Questo Questo Come fai a usarlo Mamma mia Questo No Questo Come Non lo puoi Usare questo Questo è tragico Questo è tragico Questo è proprio male 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 Questo Male Malissimo Tommy Grazie P4 Ben tornato Ma te lo fai De Viper Te la fai l'icona Può dire al fazzone Di caricare Gentilmente Un giorno di live Non stop Su gas station simulator Grazie E quello Mi sa Quasi finito Ormai Bella Grazie Che bezzo Oh Attenzione Portugallo A ti Ma Gliel'ha dato Eusebio Eusebio Quanto è bello Il più bello del mondo Guarda quanto è bello Il baby di Eusebio Va bene Quattrocentomila Quattrocentomila Ti giuro Avello visto che entra così E ha iniziato a ballare Con quei capelli che si muovono Volevo proprio spaccare il monitor Chi è Andrea Pirlo Il maestro Il maestro Dove Eusebio esce il maestro Bello si Grazie Io ho di alfazzone Che gli do mia madre Per duemila euro Io ho di alfazzone Che gli do mia madre Per duemila euro Oh Beh Beh Da Wart Ma che poi è forte A me quest'anno Il base è più No è forte È forte Il suo giro Il mio primo Questo 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 Mamba Pesta sera E' raga Stanotte Quattrocentomila Madonna Ehi Ehi Germania ATT Mamma E' brutto Germania ATT Chi è close Per favore Non ti può sbagliare È proprio lui Guarda che fa Dai E' forte Grande Bambas E' messa Che stava Stapa No Non scartà Rip Ha sfannato proprio Ha scartato Non volete Apri Il pacco Che magari Te le fucilla Un pochetto Ma Alla fine Erano 87 Ben Builder Link Va bene Peccato Allora Ricominciamo Buongi Questa è tua Questa è quella Guarda Io te la apro Con il cazzo Che ne pensi Così Guarda Arda che sfiammata Spagna ATT Uh No Era buono Che cazzo Te balli Coglione Era buono Emilio Ermeio Invece Il nigno Torres Che Germid Marbe So Saliti Non lo so Beh Muone Usabile Pramo Trovato 3,90 Vabbè Buongi Se può Usare Non è una Completa Merda Dici De lo farmi Con i Pick Bella Idea Effettivamente Lo potresti Farmare Con i Pick Cioè Con quello Che c'è De non Scambiabile Per poi Buttare Effettivamente Quello Che trovi Dentro L'icona Base Fattibile Secondo me Ci sta Con calma Tanto Arrida Da 4,60 Sta un po' Troppo Alta Secondo me Olanda ATT Klivert Almeno Meglio De van Nisse E van Busten Diciamo Che Più O Meno Se Che Wow Meglio De Quell'art I Tufregni Che Van Persi E Quanno Tota 700 Mila Vam Persi Vero Potrei Uscire Da Goloso Sì Capirai E Quanno Tota Vampersi Non esiste Cruif A T Ah L'hai trovato Che culo Bello Frasico Problema Finiti Giocatori Non ti conviene Fa I pic Per poi Sperare Non so Quante Siamo Arrivati Ma un pochettino Non abbiamo Aperte Finisco L'ultima Sfia Ti faccio Aprire Va bene Ser Daniele Ti troverò Un giocatore Italiano Però Forte Ricordatelo Apri Queste Con A base Pino Salve Pino Grazie per il sub E benvenuto Dai Robin Ma com'è possibile Amo trovato Clivert Back to back Mi scusi Ma stanno Ci solo Attaccanti Olandesi Che merda Eh mi sembra Un po' Ascriptato Questo drop Dell'icone Comunque Nel senso Ronaldo Baby Bella Silla Te dava Armida Te lo tiravide Fuori Eh capito Che te voglio Dì Bella Bella Crepa Sto Clivert La voleva sta scritta Che mi rovina il contenuto Il contenuto Apri sto contenuto Si vuole guardare il grande fratello Francia A T King Eric Buono Bello Buono King Eric Uh Uh Uuuu Uuuu Che evento C'è venerdì Penso sicuramente Qualcosa mettono Dove non fare l'eventuale Dove non fare gli headline Dove fa un sacco di roba Quindi Non si sa ancora cosa De preciso 1.4 Mi pare stava Più o meno 1.4 1.5 Guarda che Ma io il drop Non Non Onestamente Escono pure i top Poi non è che ogni pacco Che apri posh in top Non ci avrebbe senso Però Cantano è uscito Se abbia uscito Caga pure buono Winter Grazie per i 37 Ben tornato È stato patchato il bug Delle mie Non ne ho trovato neanche una Quindi Sì Penso abbiano patchato Bello Z Andrà bene Perché troppo Tanta roba Ah Ah E Ma poi Ma 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 An impressione mia Sopra tipo al 90 Di overall Le fiamme si alzano Tutte insieme 90 Sembrano fiamme Tutte alte Voi Ho visto la fiamma Di alta alta Invece Lo dite su Cantona Era più bassa Oh Eusebio Cantona Zidane Sull'icone No Sull'icone Penso sia diverso Sì Lo so Che ho 88 Più sarsi Ma sull'icone Mi sa che è diverso Tu che hai trovato Non Zidane Massa che c***o Questo A me Mi sa Piace da morire Veramente tanta 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 roba Fenomeno Non è ripetibile Icona base Su Punta Esclamativo PSN E' il primo Yoshimizu 93 No ma Se hai i soldi Pembape Pia te è Mbappé Dammi retta Cioè nel senso Pia Pia Mbappé Pia Non te metto a fare Oh Tensione Eh no Oddio Italia Punta Ho trovato Pippo Ho trovato Pippo Tragico Però che ha Maglietta del Milan Alla fine Ci sta pure bene La sua Ho trovato Pippo Non sta bene Maglietta del Milan Pippo D'administrazione Grazie Poi mi spieghi Poi mi spieghi Come ho fatto a farlo Ma è Titi Ma è Titi Henri Ma per quello che costa È buono Il problema è quello Che teda anche un po' Eh se muove Tipo come se sta Muovemo Carcola Che è un problema È un po' Tutto robot Close e mid 62 game Cioè io Ah Ah no Mi ricordavo Ah no È la mid Che sta più alta Però comunque Costa leggermente De più Dell'sbc È una carta Che se può usare Perché secondo me Lo può Lo può usare Questo lo usi Tranquillamente È carino S500 No ma Ti ripeto Poi Può essere quello che vuoi Che ti danno Una marea di non scambiabile Però Close a 200.000 Amico mio Non c'è posta Amo trovato L'outroop Ridi Te dirò Meglia a bebita La mid Dell'outroop Può giocare L'ho giocato Sì L'ho giocato Settimana scorsa Non è male Se muove bene Core Dribbla Passa Fisicamente Se fa rispettare L'unico cazzo Al culo Dell'outroop È che c'è piedi Pettirà Che su un gioco De carcio Giocando davanti Potrebbe mezzo Servire Una cosa Però non è brutto Però non è brutto Io l'ho giocato Mi è piaciuto Ti danno Guarda Ti danno Guarda Vediamo che succede Uh Uh Buono Ci piace Ma che cazzo Sta fa O sdrogo Perché la carrincia È esotico Un botto Alla estra Non sai mai Che cazzo Mette C'è butti Carrincia Bello Grazie V5 Bello E bentornato Non lo guardate E non lo guardo Io lo guardo Lo guardo Io lo guardo E non lo guarda Il mio Nel 100 Manna Manna L'am E win or lose Se può Se riesce A fare uno switch Carino E giocarlo Mediano Però è un po' Leggerino L'am Per quanto veloce Secondo me è un po' Leggerino Forse un po' Troppo Però Se può provare Comunque stava A novembre Attenzione Proprio lui Ah ma sta Volando Bello Samuele Tu becca Sta bistecca Io ho trovato Sanchez Non Non buonissimo 1.4 Che comunque Capito Dove porti a casa A me euro Non sta a dispiacere Il drop Onestamente Ma se sta ripiando Ah ma c'è pure Il finestro Tributatore C'è tiro D'esterno Ma io Sto a pensare Che non Ho mai provato Ovviata La registrazione Ma che sto a fa' Vediamo un po' Italia A ti A ti E che cazzo Ambiabile Quello Tanta roba Tanta roba Zola Mamma mia Bello Tanta roba Tanta roba